Benvenuti ad Anci Marche News. Aumentano le spiagge marchigiane da bandiera blu con l'ingresso di Fermo e Pedaso la regione conquista 18 vessilli per la stagione balneare 2013. La Fondazione per l'Educazione Ambientale Italia ha assegnato i riconoscimenti nel corso della 27esima cerimonia di premiazione alla presenza dei sindaci. Le marche sono seconde solo alla Liguria che conta 20 bandiere blu, terza la Toscana con 17. Un risultato importante per i comuni marchigiani, ne parliamo con Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia e delegato Anci per il turismo. Il fatto che oggi siano 18 le bandiere blu per le nostre spiagge penso che sia un grandissimo risultato. Siamo secondi solo dietro la Liguria, abbiamo passato la Toscana e vuole dire che questa azione di sensibilizzazione che ci mette ormai in rete sta funzionando. Non è a caso che poi tra l'altro avevamo già deciso come comuni di presentarci tutti insieme prima della giornata della FEM nazionale in 16, lo faremo in 18 con una festa delle bandiere blu, proprio queste marche in blu del 15 giugno. Il segno anche dell'impegno dei comuni? Senza dubbio abbiamo lavorato in maniera determinante con uno schema che tutti i comuni hanno riprodotto in modo da arrivare alla compilazione del questionario, ma soprattutto alle iniziative che vengono messe in campo dalla tutela ambientale a quella della promozione, dalla raccolta differenziata alla difesa dell'acqua pubblica con un'attenzione su tutto il territorio marchigiano che poi ha determinato questo importante successo che si traduce per il riconoscimento della regione a livello nazionale e internazionale. Grazie 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 Grazie